Una tre giorni di incontri aperti a 200 giovani campani tra i 16 e i 30 anni, selezionati nelle scuole e nelle università e da ragazzi già impegnati in politica, in qualità di amministratori o esponenti. Si tratta del progetto Discuteca, intesa come una teca della discussione, che si terrà nelle terme di Agnano il 26 e il 27 ed il 28 ottobre, al centro degli incontri il tema e il futuro delle politiche giovanili in Campania. Io penso che la politica ha bisogno dei suggerimenti, soprattutto delle idee che vengono dal mondo dei giovani, soprattutto perché mi sembra che sono idee abbastanza forti e soprattutto concrete rispetto alla risoluzione di alcuni problemi che riguardano il territorio della regione Campania. Quindi da parte del Consiglio e da parte mia massima disponibilità, come lo è stato sempre fino adesso e lo sarà anche in futuro. Il progetto Discuteca è frutto di numerosi incontri che si terranno tra Napoli e provincia nelle prossime settimane. Ed è organizzato dal Forum regionale della gioventù, organismo del Consiglio regionale della Campania. L'obiettivo del progetto è quello di mettere insieme 200 giovani più i giovani amministratori della nostra regione, che ne sono tantissimi, e con loro discutere di quelle che sono le tematiche inerenti alle politiche giovanili. Sono un po' tutte perché le politiche giovanili sono argomenti, è un sottosettore che è presente in tutti i settori delle politiche regionali, quindi il welfare, l'occupazione, l'informazione. Noi in questi tre giorni, che sarà la fase conclusiva di una serie di focus group che saranno tenuti su tutte e cinque le province della nostra regione, vogliamo mettere insieme le criticità che i giovani riscontrano quotidianamente, nei vari settori di istruzione, lavoro ed altro, e la possibile erosa di soluzioni che noi stessi saremo a proporre. Grazie a tutti!